siamo qua per punto io andiamo sto mangiando un gelato intanto ok ma perché si stava prendendo una pubblicità ok 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 schifo mi stanno mangiando l'isola e così impari vabbè tanto che da parte non mi serviva niente ok vai 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 ok 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 ovviamente sentirete la sirena come prima mi stanno già mangiando l'isola schifosi guarda io vado avantissimo non so non so ovviamente sentirete la sirena da tenermi schifosi mangiatori di dole dunque abbiamo 48 secondi ok è calaisa nel break ok bambino ok 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 io anche ok 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 ora 1 ok aspettate un attimo no un attimo che mi ammazza ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti